Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi, finalmente, dopo tanto tempo, posso farvi un altro video assaggi della Tokyo Treat, come potete vedere. Questa è, ahimè, quella di dicembre, perché ho avuto un po' di problemi di spedizioni, nel senso che dovevo arrivare a dicembre ed è arrivata a marzo. Quindi adesso a marzo mi è arrivata quella di dicembre e quella di febbraio. Mi sono arrivate due insieme. Ho dovuto aprirla subito per vedere se le scadenze erano ancora buone. Per fortuna sì, non è scaduto niente. Quindi non sono tanto sorpresa di quello che c'è, ma sono molto curiosa di assaggiare. Come sempre vi ricordo che Tokyo Treat è un servizio in abbonamento che vi consente di ricevere ogni mese una box come questa, disponibile in tre misure contenenti vari snack. Naturalmente la più piccola ha, mi pare, 5-6. Quella media ne ha 9, qualcosa del genere, mentre quella grande ne ha 13-14. Comunque trovate tutte le info. Purtroppo non è una collaborazione, ve le sto pagando tutte io. E niente, quindi apriamo subito. Allora, essendo l'edizione di dicembre è quella natalizia, quindi a marzo assaggeremo snack natalizi, ma va bene lo stesso. Vi ricordo come sempre che il volumetto si apre alla giapponese, quindi al contrario nostro, come vedete. Qui abbiamo il menu, qui abbiamo gli snack che troveremo. Qua due cose particolari, questa mi inquieta parecchio, che è la cream stew ramen, quindi alla zuppa. Qui c'è un personaggino portachiavi e qua c'è la lucky treat che vince un iscritto al mese, che è bella ricca. Questa era quella di dicembre, ma ormai è già stata vinta. Le istruzioni per il popping cooking e la solita leggenda o comunque curiosità sul Giappone. E qui le cose inviate dai vari iscritti. Allora, mi apro. Allora, mi sono preparata tutta la lista di dolcetti, di snack. E iniziamo subito con questi. Questi si chiamano Christmas Edition Shimichoco Corn, che sono esattamente la stessa cosa. Vedete, questi qua sono dei biscottini fatti di cereali, diciamo, ricoperti di cioccolato. Che sono gli stessi che abbiamo assaggiato un bel po' di Tokyo Treat fa. E qui la cosa carina è che si può ritagliare questa decorazione, magari. Comunque proviamoli. Eccoli qui. Appena aperto è uscito un profumo di cioccolato fondente mega. Confermo, sono esattamente gli stessi, tipo una via di mezzo tra un buffer e un biscotto, un cereale, una cosa un po' particolare. Comunque sono buoni. Un 7. Poi ci sono questi, che ho già aperto per velocizzare. Sono i Tohato, la marca Christmas Edition White Milk Caramel Corn. E sono appunto dei Popcorn al caramello. Sempre in edizione natalizia. Questi ero molto curiosa di assaggiarli, perché ho sempre saputo che sono molto molto buoni. Quindi, vediamo. Questo qui è il cornetto. Mmm! Ha una consistenza particolare. Si sciogliono subito in bocca. E sono dolcissimi di caramello. Buonissimi. Quelli gli do 10. Poi ci sono questi, che sono della Glico. famosissima marca dei pochi e dei prezzi. Questi si chiamano Comecco Scaloc Flavor. Sono cracker di riso non fritti. Che sono al gusto di sesamo. Ok, presumo anche all'ostrica blu. Vediamo. Dietro è così. Ecco, questi sono i cracker. Oddio, sono di pesce tantissimo. L'odore non è molto buono, a dire la verità, per niente. Invece il gusto non è male. Sono tipo dei tuk, che sanno un pochino di pesce, ma soie. Sono molto buoni. Però non sentite l'odore, perché sennò... Poi, c'è questo, che è lo speciale. Questo si chiama Mokeke with Ball Chain. Dice che è molto popolare. Questo vi fa da portachiavi. Oppure da mettere nella borsa. Carino, dai, è bello morbido. Poi, vado a pescare la cosa che mi inquieta molto. Ed è questa. Cream Steer Ramune. Questa dice che è una sodina in un gusto molto particolare. Bizzarra, appunto. Vediamo un po'. Per fortuna non è di vetro. Vediamo un po'. Allora. Vediamo se è con la pallina, come la vera ramune. Sì. Ok, tutorial. Come si apre la ramune? Vedete che qui ha una pallina. Poi qui trovate un anellino e un tappino. Bisogna togliere questa guaina, diciamo. Adesso speriamo non schizzi tutto. Aspettate che sposto, non si sa mai. E poi bisogna schiacciare. Eccola, lì, lo sapevo. Ok, vedete? Quindi così che si apre una ramune. Ok, ho fatto un casino. Sentiamo l'odore. Oddio. C'ho paura. Mamma mia. Allora. È frizzante, c'è la pallina dentro. Vedete che rende il frizzante. Sa proprio di brodo. Sa di brodo, di carne, di pesce, di... Non lo so neanche io, fa schifo in poche parole. È veramente orrenda. Mamma mia. No. Questa voto meno 20, meno 30, fate voi. Assolutamente no, non ve la consiglio per niente. Detto questo, che era la cosa che mi inquietava parecchio. Passiamo a questo, che è il Popping Cooking. Questo si chiama Pucci Pucci Art Gummi DIY. E ha delle bustine con questo strumentino, qua si possono fare vari disegni. Naturalmente lo faremo insieme. Poi, ci sono questi, che sono dei biscottini, si chiamano Mini Choco Chips, che sono classici dell'Ovest, quindi americani. E dice che sono croccanti e sono in formato mini. Che carini, guardate che carini che sono. Buonissimi, sono dei tipici cookies americani. Assomigliano moltissimo a quelli che si trovano alla Lidl, sono molto buoni. Poi, troviamo queste della marca Asahi. E sono Beardly Soft Candy. Vediamo un po'. Ci sono vari gusti, classico gusto di uva bianca. Molto buone. Poi, questi sono Meiji. High Milk Chocolate Tube. Qua, chissà cosa c'è scritto. Eccoli qua. Uh! Sono durissimi, io pensavo fosse tipo fudge. Invece è duro. Cioccolato al latte. Un buon cioccolato al latte, non è scadente. Tante volte gli snack giapponesi hanno un cioccolato non molto buono. Invece questo Meiji è molto, molto buono. Mi diamo un po'. Ci sono queste. Queste sono cola, ramone e candy. Sono molto popolari e sono del gusto sia di ramone sia di cola. Vedete, sono così. L'odore di cola è fortissimo. Voglio vedere se si sciolgono in bocca come le altre ramone sono quelle da... No, sono da masticare. Allora, queste vanno massicate un pochino e poi si sciolgono completamente. Sono buonissime, come le mie preferite caramelle al ramone che vedessi un po' di tempo fa. Troppo buone, ragazzi, queste. Cocoa Flavor Chocobi Ramone di Shin Chan. Ah, che carine. Quindi sono delle caramelline che sono incartate una per una. E dice che sono incartate appunto per conservare la vitamina C. Ora, queste sono molto più dure e saranno di cacao. Però non si sciolgono come le altre, sono proprio caramelle dure. Non è che sono, diciamo, i don't say, ma non è che siano spaziali. Poi abbiamo questo che si chiama Strawberry Roll Cake. Che è un must, diciamo, delle torte giapponesi. Ok. Ok. È molto strana come cosa. Sembra un vaferone. Adesso vediamo. Dentro è stranissima. Non ho capito se mi piace o no. Solo che dice che sa di fragola, ma io non sento né profumo né gusto. Mi do cinque. Non è che mi faccia impazzire, dico la verità. Lasciamo perdere quello. Ora ci sono i Tomato Pretz, che sono sempre della Glico. e questi, vediamo un po', sono molto popolari e sono vestiti in confezione natalizia. Dietro è così. Si aprono da qua dietro. Eccoli qua. Ci sono due bustine. Faccio vedere la confezione. Questi, secondo me, saranno troppo buoni. Buonissimi. Sono leggermente salati. Salo di pomodoro, di basilico, di origano. Pizza. Diciamo gusto pizza. Molto, molto buoni. Poi ci sono Christmas Fugashi, che è un dolce tradizionale giapponese, derivante dal glutine, che viene cotto con un zucchero scuro, che gli dona un bel gusto. Anzi, questo lo assaggio per dopo. Essendo tradizionale, voglio tenermelo alla fine. Poi ci sono queste ultime cose, che, come potete intuire, sono degli Umayibo o Umayibo. Ci sono questi due e questi altri due. Adesso vi dico che gusto sono. Dice che sono al gusto di corn pottage. Però, non lo so. Vediamo. Ah, ok. E questo qui è lo stesso Umayibo al cioccolato, che c'era in un po' di box fa. Sì. Buonissimo, no? Però è uguale agli altri. Poi c'è questo. Vediamo un po'. Allora, Umayibo sono dei praticamente patatoni giganti. Non riesco a capire il profumo di cosa sa. Comunque è questo. Allora, è salato. E' un po' dolcino perché sa di mais. Però è salato perché sa anche di aglio e di... Di spezie. Non ho manco capito quali. Comunque è buonissimo. Poi c'è questo. Questo. Ah, forse è uguale. Sì, è lo stesso gusto, solo che hanno due confezioni diverse, vedete. Però il gusto è quello. Buonissimi. Veramente, veramente buoni. Poi, appunto, c'è questo che dicevamo prima. Allora, vediamo un po'. Uh, che profumo di fragola. Ok. Questa cosa è inquietante. C'è questa striscia di carta oleata. Carta forno, praticamente. E poi c'è questa striscia molto appiccicosa. Vediamo un po'. Aspettate, eh. Mmm, buono. Assomiglia tipo agli orsetti gommosi, però molto, ma molto, ma molto, ma molto più morbido. E sa tantissimo di fragola. Non è... Sì, è dolce, ma non è esagerato. Sinceramente pensavo peggio. Molto buono anche questo. E quindi, niente, per questo è tutto. La settimana prossima vi carico il video della Tokyo Trit di febbraio. Quindi, edizione San Valentino. Eh, anche se sarà molto tardi, però, appunto, le ho ricevute due o tre giorni fa. Oggi è il 9 marzo. Io le ho ricevute ieri, che era l'8, quindi, insomma, farò il possibile. E niente, fatemi sapere che cosa avete provato. Cosa vi vorresse provare anche. I miei snack preferiti. I umaibo, questi qua salati. Poi, i pretz. I... questi qua. I caramel. E poi, vediamo un po', questa è la cola. Sì, questi, senz'altro, sono i miei preferiti. Quindi, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!